C'è anche lo chef ciclitano Giovanni Galesi della scuola Nosco di Ragusa a Pechino, nella fiera mondiale del food. L'export in Cina di prodotti agroalimentari italiani è in forte crescita, il trend è in aumento, 10% circa. L'Ice, l'istituto per il commercio estero, ha promosso in fiera uno spazio dedicato alle aziende delle regioni del sud, coinvolte nel programma di convergenza. Giovanni Galesi ha realizzato alcune ricette tipiche della tradizione ragusana, concedendosi poi a sperimentazioni di cugina fusion. Vino, olio, formaggi sono i prodotti blei che hanno riscosso più interesse tra i buyers cinesi.